con il pennello correttivo al volo è possibile eliminare in un click degli elementi indesiderati è semplice basta selezionare lo strumento pennello correttivo al volo dalla paletta degli strumenti settare la dimensione e la durezza del vostro pennello in questo caso aumenta un pochino la durezza e poi passare sull'immagine per eliminare gli elementi indesiderati come potete vedere in tre clic ho eliminato i nomi da questi ciondoli